È stata un vero successo la prima assoluta del coro regionale sardo Don Antonio San andata in scena nella Basilica di San Gavino a Porto Torres, un progetto nato più di due anni fa, bloccato a lungo dalla pandemia ma portato a termine grazie all'impegno della Fersaco, dei direttori e dei curisti provenienti da ogni parte dell'isola. L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione di Sardegna, dall'Assessorato della Cultura della Regione Sardegna e dal Ministero della Cultura, è stata fortemente voluta dal precedente direttivo della Fersaco sotto la presidenza di Maria Maddalena Simile. È la dedica ad un grande uomo, direttore e compositore, ha esordito il presidente della Commissione Artistica della Fersaco, Alessandro Catte, che ha lavorato senza sosta affinché il movimento corale potesse crescere in tutta l'isola. Dopo ringraziamenti di rito, l'ensemble diretto in questa occasione dal maestro Franca Floris, composto da ben 39 elementi provenienti da formazioni vocali di tutta la Sardegna, ha intonato una delle composizioni di Antonio Sanna, Rosario di Ghilarza. La serata è proseguita nel segno della grande musica con l'esecuzione della Petite Messe Solenel di Gioacchino Rossini. Oltre al coro misto è stato notevole l'apporto di musicisti di notevole bravura, a partire dal pianista Andrea Ivaldi, premiato in numerosi concorsi internazionali, con alle spalle concerti anche in Brasile, Canada, Cina, Australia e numerose registrazioni radio-televisive. E Luca Sirigu, all'Armonium, autore di musica vocale strumentale, già direttore di coro in produzioni operistiche e lirico-sinfoniche. Pregevole è stata l'esecuzione dei solisti Veronica Bozzi, soprano, Ettore Agatti, contralto, Claudio De Ledda, tenore e Francesco Solinas, basso.